Se tu inizi a fare l'arbitro e fai l'arbitro, smetti. Se sei arbitro, continui tutta la vita. Quando è arrivata la designazione, il telefono è impazzito. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo fischietto al femminile della Serie A. Momento storico per il calcio italiano. E lei si innamorò dello stadio. Dai, dai, accendi, 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 accendi. È un colloquio di lavoro questo. La sua perseveranza, la sua costanza, è stato quel fattore in più che l'ha fatta crescere. Forse arrabbia se lo dico. Maria Sole oggi era esattamente come è sempre stata sui campi. Penso che abbia arbitrato bene, è una giornata storica. So che adesso verrà la parte più difficile. Dovrò avere spalle grandi ed essere molto forte. Grazie a tutti.